Sono felice che tu abbia accettato il mio invito a cena, mia cara. Per cominciare, io consiglio castagnacce e timballo al pepe pepato. Grazie, ma assaggerò queste. Sembrano così appetitose. Saporita, come un corallo della barriera smeraldina. Assaggiala. Mangiala. Bene, adesso voglio assaggiare questa. Scusa, tu non mangi? D'accordo, mangia fuoco. È il momento di corteggiarla. Apri le orecchie e ripeti quello che dico. Oh, mia incredibile Ondina, dolcissima pesciolina. Oh, mia incredibile Ondina, dolcissima pesciolina. Sei una perla che galleggia tra i sogni. Bellissima, come un cielo di stelle marine dove la luna è un riccio di mare. Eh? Non mi starai corteggiando. Ondina. Oh, Ondina, mia piccola dolce sardina. È giunto per me finalmente il momento di dirti... Tu, brutta ingorda, sei solo una palla di pelo puzzolente. Brutta ingorda, palla di pelo puzzolente. Tu pensi... pensi che io sia una scemmia? Oh, ma che romantico! Ho sempre desiderato essere una creatura pelosa come gli eti. Nessuno ha mai attirato la mia attenzione prima d'ora. Devo ammettere che hai davvero talento. Io? Ho del talento? Nessuno me l'aveva mai detto. La mia famiglia mi ha sempre considerato un'incapace. Ma che cosa stanno facendo? Oh, no! Mangiafuoco si sta davvero innamorando di lei. Guarda tutti gli episodi! Iscriviti al canale!